Sono Antonella Loro di professione muratore. Da piccolo mi ha sempre appassionato questa categoria. Mi piaceva quando intonacavano i muratori, quando creavano le cose, quindi mi ha appassionato. Ho lavorato nel centro storico, quindi mi sono potuto specializzare nelle parti di capiteli, merleti, insomma un po' tutte queste cose. Poi da lì ho iniziato a cercare di fare cose diverse degli altri. Non volevo più fare il muratore, quindi ho lavorato, ho fatto dei mosaici stile bizantino, ho fatto dei lavori, che ne so, dei bassi rilievi, ho fatto insomma un po' di cose. E quindi mi sono sempre voluto distinguere dagli altri, ma no perché magari, perché mi piaceva evolvermi magari a trovare situazioni diverse. Niente, poi dopo un po' di anni ho pensato di... un amico mi ha fatto un invito per una mostra e mi ha detto vuoi partecipare, visto che fai queste cose, ho detto io non ho mai fatto niente. E comunque fatto sta che ho provato a fare qualcosa e ho fatto cinque, anzi quindici mostri, insomma, dei lavori così. E' venuta la gente, qualcuno l'ha apprezzato, qualcuno no, però mi dicevano il Treatone, hai copiato, insomma hai fatto cose che già fanno quegli artisti, invece io non copio da nessuno. E allora ho detto, se vuoi diventare qualcuno devi cambiare il sistema, devi inventarti un... uno stile. E allora cosa ho fatto? Ho preso l'esperienza da muratore e l'ho trasformata in arte, quindi vado a toccare quelli che sono i materiali, il ferro, il cemento, insomma, la struttura di quello che creiamo a livello di carpenteria e ho iniziato a creare quest'opera e mi ha creato uno stile. Quindi la gente piace, ho iniziato a zardare, quindi tutto fatto sempre con onestà e coraggio, perché per affrontare gli altri, insomma, un po' di coraggio lo devi avere, a differenza di... E quindi niente, ho iniziato a costruire, a fare. Le prime opere le ho posizionate a Monteleone e Roccadoria, dove rappresenta cinque parti del paese, il lago, la cava, l'arco, perché lì esiste anche il vecchio castello, un castello dei Doria. Quindi ho riprodotto delle parti di questo paesino e ho creato un'opera. L'ho simboleggiata con la festa che fanno, l'arrampicatore. E quindi in quel caso ho creato quest'opera con tutti questi soggetti del posto, insomma, dai. Niente, poi ho partecipato a diverse mostre e ci sto provando.